Ciao ragazzi bentornati o benvenuti sul canale e in un nuovo video. Io sono Alessia e come sempre ci ritroviamo qui per il nostro appuntamento ormai in cui vi parlo un po' delle letture che ho fatto durante l'ultimo mese. Luglio per me è un mese di vacanza e di conseguenza è stato un mese abbastanza proficuo per quanto riguarda le letture effettuate. Ho letto infatti sette libri ma non preoccupatevi questo video non sarà eccessivamente lungo non dovrei metterci troppo anche perché di alcuni libri letti questo mese vi ho già parlato in un video precedente e poi in realtà tre dei libri che ho letto in queste settimane in realtà più o meno contano per uno e poi dopo quando ve ne parlo capirete immediatamente e di conseguenza non preoccupatevi non dovrebbe essere un video pachidermico. Come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale vi ricordo anche che qui sotto in descrizione trovate il link alla mia pagina Instagram e al mio blog e vi lascio sempre qui sotto i link per acquistare direttamente su Amazon i libri di cui parlo. A questo punto vado alle ciance e direi di cominciare. Primo libro di luglio letto in vacanza tra l'altro Cecità di Saramago non esattamente un libro da ombrellone ma io faccio parte di quella schiera di lettori che non credono nelle letture da ombrellone nelle letture estive anzi quando sono in vacanza sono rilassato più tempo e più concentrazione da dedicare alla lettura e quindi spesso i peggiori mattoni li leggo proprio durante il periodo estivo. Dicevo appunto Cecità di Saramago mi vergogno un pochettino nel dire che non avevo mai letto niente di quest'autore però d'altronde ragazzi i libri sono talmente tanti gli autori sono talmente tanti ce ne sono talmente tanti di importanti che non si può arrivare dappertutto. Comunque prima esperienza con questo con questo autore di questo libro si è parlato molto durante il lockdown però per non appesantire ulteriormente la situazione l'ho messo nella mia wishlist e quindi ho deciso che era arrivato il momento di leggerlo ma ho preferito non leggerlo durante le settimane di quarantena ferrea ho preferito rimandare la lettura a settimane più felici effettivamente così ho fatto e devo dire che è stato meglio così perché Cecità è una lettura particolarmente densa e pesante anche da digerire. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando Cecità è un romanzo che è ambientato in un tempo non ben identificato in una città non ben identificata sa di fatto che in questa città ad un certo punto scoppia un'epidemia un'epidemia misteriosa che rende la popolazione cieca. Gli uomini cominciano a vedere tutto bianco e questa epidemia si diffonde a macchia d'olio e ovviamente si tratta di una malattia sconosciuta di cui nessuno conosce l'origine di cui nessuno ha sentito parlare e di conseguenza in men che non si dica nella città si scatena il panico. Si scatena il panico al punto che le autorità decidono di isolare all'interno di un ex manicomio i primi malati per tentare di arginare il contagio e questi vengono lasciati praticamente a se stessi. non sono assistiti da nessuno e all'interno di questo manicomio dove appunto le persone non ci vedono di fatto lasciano riemergere quello che è il proprio lato animalesco. Quindi in men che non si dica questa convivenza si trasforma in una lotta di tutti contro tutti dove si tenta alcuni personaggi tentano di darsi delle regole di darsi dei punti di riferimento ma ciò non è possibile e vi dicevo prima che questo romanzo è un romanzo molto forte perché comunque ci sono scene davvero crude e l'obiettivo dello scrittore è appunto quello di mostrare come di fatto in una situazione di emergenza come appunto quella della diffusione di questa epidemia di cecità di fatto l'uomo si lasci andare e si comporta come un essere irrazionale e lascia che il proprio lato appunto animalesco e violento anche prende sopravvento. È una lettura sicuramente super incisiva e che vi consiglio caldamente però chiaramente se siete persone molto emotive che si lasciano molto impressionare e che si lasciano coinvolgere troppo da scene particolarmente crude e particolarmente violente prendete questa lettura con le pinze. Molti non amano lo stile di Saramago che ha una maniera tutta sua di scrivere nel senso che fa un uso davvero centellinato della punteggiatura e tra l'altro non segnala i dialoghi con le virgolette motivo per cui non si tratta di una lettura scorrevolissima, facilissima. Comunque queste caratteristiche dello stile di Saramago che disturbano molti lettori in realtà non hanno disturbato particolarmente me tant'è che vorrei conoscere più a fondo questo autore e ho già deciso quale sarà la mia prossima lettura a riguardo, vale a dire Il Vangelo secondo Gesù Cristo che è un libro che ho sempre visto tra gli scaffali della libreria, ho sempre detto sì lo leggerò, sì lo leggerò, probabilmente ne sentirete parlare qui sul canale nei prossimi wrap up, nei prossimi video. Seconda lettura del mese di luglio, I ragazzi della Nickel di Colson Whitehead, Colson Whitehead l'ho scoperto qualche tempo fa con La Ferrovia Sotterranea, romanzo che mi era piaciuto molto, di conseguenza quando è uscito I ragazzi della Nickel ho immediatamente deciso di leggerlo, ci sono arrivata qualche mese dopo, nel senso che se non sbaglio I ragazzi della Nickel è uscito alla fine del 2019, ci sono arrivata più o meno a metà 2020, comunque un romanzo bellissimo che ho preferito alla Ferrovia Sotterranea, l'ambientazione è diversa rispetto a quella della Ferrovia Sotterranea, nel senso che la Ferrovia Sotterranea è ambientata durante gli anni 50-60 dell'Ottocento e racconta la storia di una schiava che fugge dalla piantagione in cui è nata e cresciuta, mentre I ragazzi della Nickel ha un'ambientazione che è un po' più vicina a noi, infatti la storia è ambientata negli anni 60 del 900 e racconta di Elwood, un ragazzino di colore nato in Florida, il quale ingiustamente viene mandato in una scuola riformatorio, la Nickel appunto, dove innanzitutto si vive una situazione di totale segregazione, come del resto era normale in quegli anni, quindi vi è il settore dei bianchi da un lato e il settore dei neri dall'altro, ma poi soprattutto in questo romanzo si dà spazio alla descrizione di quelle che sono le violenze, i sopprusi, le ingiustizie che si verificano all'interno di questa scuola riformatorio, che avrebbe dovuto avere la funzione di rieducare i giovani considerati difficili in modo tale che potessero poi reinserirsi in società, ma che invece appunto con le sue violenze, con i suoi sopprusi e con le sue ingiustizie non fa altro che peggiorare, peggiorare la situazione di questi ragazzi. Un romanzo davvero intenso, davvero toccante che vi consiglio, tra l'altro sono poche pagine, credo che sia un romanzo che non arrivi alle 200 pagine, l'ho letto in formato digitale, quindi non riesco a visualizzare precisamente, però davvero vale la pena di essere letto. Dal momento che questo autore mi è piaciuto molto, mi è piaciuto molto leggere sia la ferrovia sotterranea sia i ragazzi della Nickel, ho deciso di andare alla ricerca di altri romanzi di Whitehead e quindi ho recuperato il suo primo romanzo, L'intuizionista. Risulta davvero difficile riassumere in poche parole questo romanzo, perché si tratta di un romanzo dalla trama particolarissima, bislacca anche se vogliamo, e un romanzo anche complesso dal punto di vista della focalizzazione e della struttura. Quindi ho girato un video su questi tre romanzi di Colson Whitehead, la ferrovia sotterranea, i ragazzi della Nickel e l'intuizionista. Vi lascio il link qui in descrizione perché ne ho parlato scendendo molto nel dettaglio e di conseguenza anziché darvi qui qualche informazione così troppo superficiale sull'intuizionista, vi rimando a quel video. Comunque si è trattata di una lettura molto particolare, molto insolita, interessante sicuramente. Colson Whitehead è un grande narratore, un grande creatore di storie e un autore di cui spero di leggere presto altri libri. Quarta lettura del mese di luglio, Un ragazzo normale di Lorenzo Marone. Mi sono approcciata a questo libro perché mi è stato consigliato tempo fa da una collega. Si parlava infatti di libri da proporre in classe ai ragazzi, lei mi ha detto di aver proposto questo libro alla sua classe e di conseguenza ho deciso di leggerlo per poterlo poi proporre in un futuro eventualmente ai miei studenti. Un ragazzo normale è un romanzo che copre un arco temporale di pochi mesi dall'inverno del 1985 al settembre del 1985. Il protagonista e narratore Mimì è un giovane ragazzo, un ragazzino di 12 anni, un preadolescente nato e cresciuto a Napoli. Vive con il padre, la madre, la sorella e i due nonni in una casetta molto piccola ombilocale e Mimì e la sua famiglia condividono non senza fatica il poco spazio che hanno a disposizione e il poco denaro che hanno a disposizione. Mimì ama la lettura, ama i libri, infatti divora e impara a memoria i pochissimi romanzi che possiede. Inoltre ha altre due passioni quella della natura degli animali della scienza in generale e poi quella dei dei supereroi. E infatti un grande appassionato di fumetti di film di supereroi è un ragazzino dolce particolare perché comunque ama fare sfoggio diciamo delle sue conoscenze della sua cultura e ama anche esprimersi in maniera abbastanza forbita, abbastanza ricercata, mentre magari i suoi familiari e i suoi amici prediligono a volte l'uso del dialetto. Questo romanzo è il racconto appunto di questi mesi, mesi in cui Mimì vive i problemi che sono tipici di quell'età, vale a dire il conflitto con i genitori e con la sorella maggiore con cui ha un buon rapporto ma con cui è anche inevitabile a volte litigare, entrare in rotta di collisione. Poi c'è il problema delle amicizie, della difficoltà di trovare amicizie sincere visti anche gli interessi non troppo mainstream di Mimì. Vi è la tematica appunto dei primi amori, dei primi batticuori, infatti Mimì è innamorato della ragazza della porta accanto che ovviamente di lui non ne vuole sapere e poi c'è la problematica, c'è il tema del riuscire a trovare la propria strada, riuscire a trovare la propria voce, riuscire a capire che cosa voler fare da grandi, che cosa voler essere da grandi. Tutte tematiche che ci stanno benissimo all'interno di un romanzo per ragazzi e oltretutto a tutte queste tematiche si aggiunge quella della camorra e dell'omertà diffusa. Infatti tra i vicini di casa di Mimì c'è Giancarlo Siani giornalista che appunto nel settembre del 1985 è stato ucciso a colpi di pistola dalla camorra. Infatti Mimì chiama tanto i supereroi facendo la conoscenza di Giancarlo conosce un supereroe in carne ed ossa di fatto che ha fatto del coraggio di raccontare la verità il suo superpotere. Come vi dicevo prima si tratta di un romanzo che è adattissimo per un pubblico giovane perché ha il pregio di affrontare molte tematiche che sono care appunto ai teenager ma ha anche il pregio di introdurre in maniera delicata anche il tema appunto della criminalità organizzata e dell'omertà diffusa. Una frase che mi è rimasta particolarmente impressa è quella che non ricordo se i genitori o i nonni dicono a Mimì riferendosi a Giancarlo comunque a Mimì viene detto i supereroi piacciono a tutti, i supereroi vanno bene purché non vivano nel nostro palazzo. Ecco questa secondo me è una frase che nella sua semplicità dice tante cose, dice tutto. Un romanzo che è stato anche però guardando un po' guardandomi un po' intorno su internet, su Instagram, qui su YouTube, un romanzo che è anche stato criticato dal momento che effettivamente non c'è un grande livello di approfondimento in questo romanzo. La figura di Giancarlo Siani è molto molto marginale e tra l'altro viene tratteggiata in maniera forse un po' troppo artificiale nel senso che Mimì diventa amico di Giancarlo il quale incarna un po' la figura dell'adulto saggio che dispensa consigli sulla vita e sull'amore e forse in maniera un po' troppo retorica se vogliamo. Quindi non c'è un approfondimento della figura di Giancarlo Siani, non si spiega nel dettaglio come mai precisamente è stato ucciso, non c'è un approfondimento della Napoli degli anni degli anni Ottanta, non c'è un focus, un approfondimento in generale sulla Camorra. Quindi se dobbiamo giudicare questo libro considerandolo un romanzo per adulti sicuramente non c'è un gran livello di approfondimento e capisco che possa aver deluso molti dei suoi lettori. Se però vogliamo giudicare questo romanzo come un romanzo per ragazzi che appunto ha il preso di introdurre il tema della Camorra in maniera delicata se vogliamo affiancando molte tematiche care al pubblico appunto dei teenager direi che questo romanzo centra l'obiettivo. Io che l'ho letto con l'intenzione di proporlo alle mie classi l'ho trovato un buon romanzo e sicuramente lo proporrò come lettura. Vado con l'ultima lettura del mese di luglio. Vi ho detto, mancano tre libri perché vi ho detto che ho letto sette libri ma che di fatto tre contano per uno. Infatti l'ultima lettura del mese di luglio è stata la saga della Traversa Specchi. Come sapete si tratta di una tetralogia, Fidanzati dell'inverno, Gli scomparsi di Chiardiluna, Memoria di Babel e Ekin Tempesta. Io con me ho qui l'ultimo volume della saga Ekin Tempesta. Devo dire la verità non ho ancora finito, mi manca poco penso di finirlo negli ultimi giorni. Comunque ve lo presento, vi parlo di questa saga nel wrap up di luglio perché ho intenzione di poi girare un video incentrato sulla saga e siccome appunto di fatto l'ho quasi finito e questo video uscirà la prossima settimana, presumibilmente ve ne parlo ora anche se di fatto non ho ancora terminato l'ultimo volume. Allora, che dire, vi avevo detto il mese scorso che avevo cominciato con Fidanzati dell'inverno e che si trattava di un libro che mi aveva colpito per certi aspetti dell'uso per altri. Mi avevano colpito soprattutto l'ambientazione e la creazione dell'universo magico e devo dire che questi aspetti si sono confermati, diciamo, nell'arco della lettura degli altri volumi, nel senso che la Dabo, Cristel Dabo, crea un sacco di ambientazioni, crea un universo davvero intricato, davvero complesso e fantasioso, bislacco, strampalato se vogliamo. Tant'è che su Instagram ho pubblicato recentemente un post dove ho paragonato l'universo creato dalla Dabo alle carte del Dixit. Non so se conoscete questo gioco, comunque un gioco di carte dove ci sono delle immagini piuttosto oniriche, i partecipanti devono fare indovinare la carta che hanno scelto attraverso una frase, una citazione, una parola. Appunto si tratta di carte, se le conoscete, con immagini molto fantasiose, magiche, oniriche e mi hanno, l'universo creato dalla Dabo mi ha ricordato moltissimo queste immagini, proprio perché è estremamente fantasioso, estremamente creativo. Quindi questo aspetto sicuramente è positivo, l'ho ritrovato negli altri volumi e questo è un aspetto che continua a piacermi di questa saga. In particolare secondo me il terzo da questo punto di vista è il volume meglio riuscito perché appunto la protagonista arriva sull'arca di Babel che è un'arca cosmopolita dove si riuniscono un sacco di personaggi con caratteristiche diversissime, con poteri super interessanti, di conseguenza quello è stato il volume che da quel punto di vista mi ha colpito di più. Parlando invece di aspetti negativi, avevo detto la volta precedente che non mi avevano particolarmente colpito i personaggi, che non ero rimasta affolgorata dalla figura di Ophelia, effettivamente la figura di Ophelia che è poi la protagonista continua a non convincermi del tutto. È vero che Ophelia migliora, matura nel corso della vicenda, non vi faccio spoiler quindi andate tranquilli, però comunque c'è qualcosa che non mi convince in questo personaggio. Molto più intrigante invece è la figura di Thorne, assolutamente l'apprezzo più della figura di Ophelia. Altro aspetto negativo sicuramente è il fatto che sia tutto un po' monotono, nel senso che ok cambiano gli universi, cambiano le ambientazioni, ma di fatto la dinamica che sta alla base di ogni volume è più o meno sempre la stessa, nel senso che il primo volume è abbastanza introduttivo, aperitivo e introduce un po' le figure dei protagonisti, introduce il mondo in cui questi si muovono e quindi ok. Il secondo e il terzo volume bene o male mettono in scena la stessa dinamica, vale a dire la protagonista si trova immersa in un mondo ostile, in un mondo di cui deve imparare a conoscere le regole e in cui deve imparare a muoversi, aggiostrarsi. È più o meno sempre la stessa dinamica. Ok ci sta riproporla nel secondo volume e nel terzo volume, non mi aspettavo che anche l'ultimo prendesse questo andazzo, nel senso che fin dove sono arrivata ora bene o male si sta riproponendo la stessa dinamica. Ophelia entra a far parte di una realtà nuova, di un mondo nuovo e deve imparare a gestirsi, deve capire come funziona. Questa roba è un po' troppo reiterata, mi aspettavo per il quarto volume un guizzo di novità in più. Comunque ho intenzione di girare un video sulla saga della Traversa Specchi con una prima parte in cui parlerò in maniera più approfondita delle tematiche affrontate nella saga e dei suoi aspetti positivi e negativi, mentre ci sarà una seconda parte che invece si concentrerà maggiormente sull'ultimo volume, quindi sulla conclusione della saga e lì magari ci sarà anche una parte spoiler dedicata a chi la saga l'ha letta e magari vuole discutere su come è andata a finire. Io con le letture di luglio ho concluso nei commenti, fatemi sapere come sono state le vostre letture, se avete letto qualcuno dei libri di cui ho parlato, se i libri di cui ho parlato vi sono piaciuti o non vi sono piaciuti, insomma raccontatemi un po' quelle che sono le vostre opinioni a riguardo. Mi piace un sacco leggere i vostri commenti e rispondervi, quindi vi do appuntamento al prossimo video, buone vacanze e soprattutto buone letture. Ciao ciao a tutti!